mariong ma lo sta fa mariong sta giocando ancora a fogamon sta gioca a fogamon rega entra entra mariong entra mariong entra mariong entra benedetto il signore e protocina bros che è mario 1 nanni 2 dada 3 victor non entrerà mai invece eccomi qua vediamo invece come qua immagino vabbè tanto ormai dopo quello che ha detto io ovviamente chiedo scusa live ma ovviamente io allora io ovviamente stavamo si era cogliardico davos che no veramente non volevo fare nessuno era una battuta dicione maledette ma sì infatti non è nel non è il modo di ascolta stavo scherzando ovviamente perché pensavo fossimo io e lui che va bene fuori da ma sia ho sbagliato lo so che sbagliate non è nemmeno che da tutti ci vede ritardati in chat e bananatte ma no ma non per quella che magari giustamente io stavo scherzando ovviamente non penso ma che direi in pubblico sapevo di essere in pubblico ovviamente mario di miale o niente non comincerò a farmi no in nervosire ma chi dà fastidio quando non gli dice le cose come ha detto mario e poi mi ha detto niente dove siamo all'asilo ti posso non ci posso aver pensato scusami è che c'era un dittatore il dittatore del linguaggio era allora cosa devo dire cosa non devo dire una capito tranquillo non è tranquillo ti capisco che cosa ti ho appena difeso a te faccia di merda si 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 ho capito ho capito che l'hai capito va bene fate fatica a essere amici voi veneti e sicilia posso dire una volta siamo molto simili non è vero non è vero non è mai vero in che cosa mario nell'estremismo delle delle tradizioni sì perché dicono i contadini del nord tipo e non sapevo un'altra cosa ma i terroni del nord ma i terreni del nord e di porno i toscani terrori non è al nord ma il toscano non esagerare i guarnesi sono i toscani si ero caduto ma hai capito che sta assoluta dove no non sta assoluta ma perché chi è come come svevo moltrasio ma chi cazzo è non lo conosco ma sei pazzo ma sei caduto lì che svevo che è ora italo che è questo italo ma chi è italo ragazzi non sto capendo un cazzo ma chi è italo chi cazzo è quello dei treni chi è ma svevo non è italo ma chi è italo ma chi è italo ma chi è italo ma l'avete detto voi non l'ho detto io l'ha detto nanni chi è nanni italo io ho detto tu hai detto stevo ma che cazzo è un nome anche un politico la svevo italo svevo quella è la svezia lo svevo è un politico maledetto testa di cazzo ma non me lo svevo io con queste stronzate di piatto ma non me lo svevo più ma chi cazzo è idalo svevo diventa c'è un maledetto idiota il carbonio ehi ehi siamo tutti amici tomodaci significa amico in cinese vero 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 tipo bangladesi cringe idalo svevo non è un politico ma perché ma sì che è un politico ma ma te ne affanculo testa di cazzo ma in tutto questo svevo moltissimo cosa c'entra con me è uno che fa video su youtube che parla di cinema e ha criticato i youtuber di merda che fanno video di un ora e parlano di fuffa vabbè sta parlando di victor la solo 88 mi sa e poi alla fine del video fa vedere che praticamente voi avete recensito tutti i barbie mentre non un film è bello che uscito in spagna ultimamente ne ho parlato oggi di pigi quindi non capisce un po scherzi bank no animali animali selvatici si chiama a svesta da me non è uscito ma non l'ha visto ma veramente io mi ammazzo cosa devo fare lo strano di stampo una copia ma tu faresti un'ora di analisi di questo film perché va veloce adesso perché corre sto più di troia ai 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 il culo della mamma de mario ma dove cazzo è il merda qua vicino al burro nella minchia guarda ma che c'è rimasto male che cosa non ti ho manco sentito è rimasto male di diego mini di dice ci sono rimasto male non sento quello che c'è un permaloso di merda sacci e basta mangiate la polvere box di merda proprio di cagate dall'altro lato l'altro lato me lo dici adesso sono mezz'ora che cerco di qua nanni di qua c'è il glitch che non sto capendo mario storniolo no 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 dico a diego non a te io penso che lui ti abbia c'è mario mi ha letto penso che lui mario ha detto quello rispondi pure a mario diego pronto cosa sei a telefono pronto diego arla nego se ci tieni così tanto a dire che mi sono offeso e non ho manco capito vuol dire che volevi offendermi c'è la condivisione dei ban e di voi ancora ciao vabbè ma nanni banno tutti scusami cioè non non è vero in realtà ok è un dio tra te masella ma avete proprio bannato tutti ogni volta dovevo sentite chat e scrive tipo cacatong nel puzzo io lo banno c'è perché mi fanno grigiare date invece penso l'esatto contrario a me fanno ride tutti me lo so non d'accordo perché così se cado a terra nel posto giusto giusto è giusto nel senso il posto giusto giusto come richiesta alla fine della domanda no 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 sto arrivando sono quasi all'autostrada no va bene allora ti aspetto non è vero mare sono cicli e dong ok sono quasi all'aeroplano mario tu sali tu sali poi arriverò tanto la strada della prima sinistra giusto sì e quando sali dove c'è il che il coso chiuso se salti bene arrivi molto più in alto ma che cazzo questo gioco comunque è difficilissimo ragazzi è stata una pessima idea riproporla perché io sono alla nave sei quella grossa con i con i container quindi devo fare questa parte adesso non ti fidare ma perché c'è la nebbia quello perché agli reticolli no bella più vigilando sale no sbagliato a leggere ragazzi peccato peccato perché poteva essere una cosa interessante ma cosa diciamo non parli marco merino c'è marco merino non credo a no sei cose che io sono io non ho mai giocato ne ho le apne a questo è un punto che non capisco proprio dove cazzo devo andare stranino arrivo come non funziona questa cosa che dite mannaggia la ok sto arrivando mario e la strada per salire inizia da praticamente un autobotte con tipo dei barili sospesi in aria quella è la strada dove deve iniziare a salire cioè no io sono su dove ci sono dei container non è dietro di teo tipo sotto a sinistra ragazzi non vedo nulla no non vedo dove sta scendendo eccolo oh madonna deve camminare qua piano piano mia il resto qui sul filo del rasoio tramite ad un certo punto si fermerà tipo su un muro invisibile come è fatto a salire sul filo la grappa con le mano e poi salti qua sulla recensione qua a destra ha capito sullo schia ma poi qua sulla ciminiera un palazzo di vetro picco guardate da dove si sale qua dalle scale lì non c'è nulla per salire quadro ma infischiamocene indietro guardate in basso di marini mattia vado io aspetta fammi a terra sennò ma deve magari mi colpisce mario dispari ok pari vai bim boom quanto hai fatto fritto e baccalà io 25 chi era dispari vanno il culo di tu mario io vado io mi sembra di aver detto pari io oddio dato mamma anche no se premissuto attacchi lì allora visto che tu no bravi ok vai mario vola come torna qua ce la fai mario aggrappati a quello che trovi steno ma ritorna qua ritorna qua non sta tornando credo mario non ti vediamo tornare è andata meglio di quanto penso al primo try per dio no 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 sono caduto sono caduto però non troppo non sei sceso io invece storie sto cominciando a salire dalla parte di dove cosa cosa mi devo aggrappare impossibile non è impossibile non è l'ho fatto è difficilissimo però ok ho capito ti provo devi ma che hai capito due volte mi spiegate perché sono cascato e tutte tutti i tornanti dell'autostrada erano invisibili e sono ricordi quella parte di me lo ricordo me lo ricordi sono caduto nei tornanti di quelli circolari a spirale dell'autostrada si è su tutti invisibili quando caso si è normale si 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 solo una strada è vera le altre sono tutte false e quella della barca la strada giusta quando sali con la barca vai a sinistra appena sali con la barca guardando la strada hanno anche questo questi figli di come punto di riferimento è un cassonetto chiuso a me sembra fosse quello che altro che precipitando gli è passato attraverso si è proprio vuota quella stanza io sono caduto ma dalla parte sbagliata alla recinzione credo mannaggia dio mi sa di no non è la stagionata mi sa che non è la stagionata sia naso a dj aiuto rego a trego faccio faccio pace 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 è messo rotto il mouse forza lazio eh no la stagionata è schippata facendo sto salto te l'ho detto di potere della moglie io mi pensavo fosse lì nel palcoscenico della macchina della cosa è schifato tutto stai proprio nel pulso ma perché sei andata un'altra parte perché non vieni dove sono andato io capisco i pisani sono per cura di tanto quanto i laziati non lo so piatti non per ma perché sono odiati l'odio verso pisa da cosa nasce dalla torre dal fatto che prima controllavano tutti e dal fatto che adesso sono tutti dei contadini che si credono arricchiti con la puzza sotto il naso antipatici come la merda ci sta bene d'accordo non pensavo una risposta così specifica però grazie tu sei di livorno invece non è sì proprio a pisa beh ci si è fatto degli amici quindi dai posto nel sol dire se la merda fosse oro pizza sarebbe un tesoro ma tizio la maniera mi dici perché spiderman è il personaggio chiamato aria quello di perché vai vai parla tu tizio prima poi io parlo con mario è pronto no è chiaro non ho capito ma come no perché è ok ok era questa la risposta bene mario mario devi prendere una corsa mentre corri premi anche un pochino il tasto spazio come se volessi saltare anzi salta mentre conoscete tre minuti podcast sì tre minuti dici sì sì ma no ma minuti perché sono piccolini cioè a parte parte scherzi è un bel progetto perché uno dei tre è un ex eroe nomine quindi parlano comunque gli argomenti interessanti gli altri due lo sono che essere un ex eroe nome che vi porta un busto di argomentazione è vero di narrazione ne ha vista di tutti i colori non sono io l'eroe nomine ma non sai che poi provarlo mario sì sì e controlla il voto di tre minuti podcast dimostra che tu sei l'eroe nomine o meno dimostra che non sono io l'eroe nomine di cui parla nanni ma magari se è un altro eccolo c'è alla gente certi avete attaccato questo godo pure a federica quando faccio una cassata vedete che dice godo poi godo a rete ce lo dicono tutti godo ma chi lo dice che lo dice per ogni stranzata godo così a caso io dico ma che c'entra buono vabbè questo è un vittor sei veramente meglio meglio cosa ho detto ma adesso mi devi spiegare mario cosa ho detto sentiamo no 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 non spiego niente ma cosa ho fatto niente niente ti voglio bene vado a letto pensando che mario mi odia grazie non è una roba ma vabbè ma lo pensano tutti vittor sei tranquillo davanti ma cosa pensano tutti che io vi odio mamma mia il continuo io voglio bene veramente a tutti e forse esagerò pure a volervi tanto bene ma fatemi a fare perché sono scarso in ogni cosa che faccio nella mia vita ditemelo non vi giorno non è vero non è vero dai vika paradi fiano no beh in realtà su quello non forse non è l'unica nella vita ma per il resto vabbè sembrava offendere determinate persone però allora dai no per favore che da che mi sento in colpissimo pensavo non fossimo in live cazzo c'è ma anche voi ma ditelo se siete dovete mettere un disclaimer cazzo ma dove lo devo mettere se entro io c'è tutto sono tipo 465 io chiedo 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 sei live ma quando cazzo mai sei andato in lei nella tua nella tua vita vick mi ripeto che sei detto che non c'ero non non si può dire accanto al peggio delle troie russe di no no peggio di quello no accanto al carlo armato amici che sono tedeschi io gli ero iniziato a vedere ted lasso grazie al consiglio di vick a piacere di mamma mia se non ti sta piacendo ti manda a froncura ho bruciato tipo sei episodi si si sei episodi scoppiati poi in quattro ore vero che è bellissima bellissima ti dico solo che secondo me è una delle poche serie che più va avanti più bella bellissima cazzo è proprio cioè non mi ha mai fatto ridere però è proprio piacevole da guardare veramente piacevole ma di cosa parla che cos'è sta cosa parla di un tizio mi potrebbe piacere sì 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 è un collega di mario parla della bill mi potrebbe piacere tanto allora parla parla di un allenatore di football americano che va ad allenare una squadra di calcio ma non sa nulla di calcio va in inghilterra e però è una serie in cui il calcio è un pretesto per parlare d'altro e anche se non ti piace come sport è bellissima la mia non segui il calcio eppure splendida ma la differenza tra questi on the up è solo che queste multiplayer male no questo è fatto male ed è ultra di fi ma che comunque ho visto only down ed è una merda riga lasciata aperta l'ho visto anch'io no 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 è un gioco dove diventa il video su sim ma abbiamo visto quello sbagliato mi sa io l'ho visto scusami ma quel cassonetto la che vuole a mezz'ora questa è peggio di quella che ha detto vick la difesa che lui l'ha detto consapevolmente però ha detto nulla c'è ma nello sbaglio forse ho trovato la mia fuori di voglia che ha trovato io non so niente non ho sentito ma che è estero mario 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 andò va caldo dicendo che la verti di dario ea tutto sto tempo era dedicato a mario prima ancora che lo conoscesse no si può fare questo quello che ha fatto mattia ma come cazzo hai fatto fra c'è un punto dove c'è una cosa finta e io ci sono saltato sopra ed è caduta dai mario salta come continuo qua devi saltare dove sono io andremo su insieme dimmi te il signor del destino come cazzo faccio da raggiungerti corri e salta su mario più in alto di me da qui a pog grande c'è devo andare da qui si mario green course e salti tommy sposto sono anche non ce la farei mai mario nessuno crede in te mario un pochettino sì non tantissimo però adesso in realtà di che dovessi arrivato che lascia stare non voglio non voglio non voglio una roba molto brutta adesso mario ci sono poi impazziremo un bel po bene facinare di cristo sono tornata da un ero in altissimo allora mario piangiamo e te lo dico allora mario la vedi questo fortemente spaventato è esattamente quello che pensi bisogna farla tutta così bella rio in questo momento se uno mi buttasse giù da qua io mi ammazzerei nella vita reale quindi no sì sì aprire la finestra mi butterei giunta da sì sembra io mattia sono dietro di te sarei molto attento ok te lo file in curarella mario io sceglierò destra tt tt se fa sentire male ci vediamo labbro sta stringendo il culo sentire sulla staccionata sì sì perché gli hai fatto fa la staccionata non gli ha fatto uno schizzi che lui io sono caduto e lui allo skip non è riuscito a farlo evidentemente intendente mario bro a certo punto bisognerà saltare però qua che bellissime colline mario non distratti se ti giri il personaggio si gira ok pazzesco quanto su di in questo gioco di merda comunque ma raga io c'è ho perso completamente il percorso non capisco perché dove sei in anni tu alla ciminiera ma non so commentare nel buco c'è da ridere non c'è niente da ridere ok mario guardate quanto sudore sulle mani vai mario mai mario vai molto piano tutto dritto è facilissimo mario ti faccio luce perché stai ma dove fado ma dalla ciminiera dove vado scusami dalla ciminiera devi saltare su quel palazzo tutto vetrato in diagonale diagonale tutto vetrato ma dove ci sono le piattaforme cerchi no eh quello che hai davanti a se tu vai dritto per dritto nel cassonetto eh ci sarà un palazzo vetrato in diagonale diagonale devi vai mario devi squammare space sulla tossiera mentre salt si devi tenere premuto spazio no devi premerlo devi premerlo velocissimo vabbè un diretto a poli mario mario sei fatta ok adesso mario aspetta aspetta sì 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 vai tranquillo vedi un bel goccino d'acqua adesso adesso è abbastanza facile qui ok non gli tirano una testata ragazzi vi giuro che se mario farò mai una cosa del genere io penso veramente di che non gli parlerai mai più e ritira una testata ok diego pensa come sarei messo io con iperidrosi a bruci del puzzo ora mario anche qui è molto facile non so non so sole e bare e salti no no capito mario vai ok salta quella nebbia è un bug non è vera ok adesso mario qua occhio perché qui c'è subito un buco lo vedi subito e ti rampichi su questa rete questo è un pochino difficile ma lo fai facile bravi bravissimo ok ora mario tra una sepa e l'altra saltino perché ti incastri tra una sepa e l'altra perché questo gioco è una merda ok dai 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 ma se sono gli stessi perché l'ha fatto così male non capisco perché l'hanno rilasciato in cinque giorni perché hanno visto il successo dell'altro e sta andando bene anche questo tutto fa bene quello che si chiama only up like vai ok bene molto facile anche questa molto facile anche questo molto facile anche questo tanto se cadi lì considera che sei sul coso quindi ok ok adesso qua so che sembra scivoloso ma non lo è fai così e lui si aggrappa ok perfetto e adesso qua anche se è tutto vagato va ora questo è un bastardo però quello che stiamo per fare è stronzo perfetto ora mario questa è esattamente una staccionata ma c'ha una merda agganciata allora fermo restando che se cadi cadi nel palazzo quindi devi solo rifare la parte del vetro ok qui devi fare un salto e in avanti ok e poi un altro va bene insomma se non sembra e dopo di che è come la staccionata uguale e mo lo vedi perché il tuo personaggio non si muove più e però dovrebbe devi fare proprio un piccolo saltino in avanti e mo bravissimo appena lo vedi